Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per sabato 8 luglio. L'anticiclone africano dopo aver raggiunto il sud e poi il centro raggiungerà sabato anche il nord Italia. Quindi tempo bello e soleggiato su tutta l'Italia, brezze lungo le coste e nelle valli caldo in aumento. Massime sul nord Italia intorno a 30-33 gradi, su Marca, Abruzzo e Molise 27-29 gradi, sulla regione Tireni che Sardegna 31-34 gradi, punti di 35 gradi nel Materano, punti di 36-38 gradi sulle isole maggiori. Vi ricordo di scaricare dall'on page nel nostro sito la nostra app completamente rinnovata nei contenuti da una settimana.